Dai, ma ci sei rimasto male, ma la Befana non arriva a Bellano sul lago di Como, la Befana sta a Roma nella raccog... Ti posso dire una cosa, Roby? La Befana, non esiste. Dai, dai, vieni in cucina, tanto è avuto un sacco di regali, dai, vieni. Oh, Roby, tu te l'hai detto a tua madre, che la Befana esiste! Stai venuto da Roma fino a qui, allora che mai vuoi fare la scopa? Quella che ti ha portato la Befana, guarda! La bamboletta nera, come te? Sei contento, Roby? Dà un bacetto. Bello, Roby! Ora vado via, vado a consegnare altri giocattoli. Ciao, Roby! Dai, Roby! Che ha detto? Che ha detto che la Befana non esiste! Vieni qua, maledetta, vieni qua! Che ha detto che la Befana non esiste! Allora, ma che ha detto che la Befana non esiste, che ha detto? Che ha detto? Dove esce da qua? Dove esce? Questa è la consegnare ai giocattoli! Ma sorella, c'è stato un signore che è giunto da Befana, si è lamentato perché nel cammino ha trovato un cazzo grosso così. Ma che gli ha lasciato nel cammino? Mamma, scusami, ma secondo te questa cosa fa ridere? Devi dire abbattuta di... Ma io non lo faccio uno sketch così schifoso, come finisce sto sketch? Eppure te che gli ho lasciato al culo! Nel cammino! Non ho parole! Sono i denti arrabbiati! Allora dopo tu esci giù, ti butti giù dal cammino quando ci sono i ragazzi di là e gli butti delle patate e delle cipolle e gli dici Ho! 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 Ho!